È caccia ai piromani che nella notte hanno appiccato il fuoco all'Old Faxal, il noto locale che si trova sul pubblico passeggio molto frequentato dai giovani. Gli inquirenti hanno pochi dubbi, le fiamme sono state originate da un gesto volontario. L'incendio è divampato nella notte intorno alle 4, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme impedendo di intaccare il locale principale. Il rogo infatti era partito dal prefabbricato in legno al piano terra adiacente al parcheggio del Cheope. La struttura fungeva da magazzino per i rifornimenti che sono andati distrutti insieme alla tettoia in legno. Danneggiato anche il muro, ingenti dunque i danni. Le volanti di polizia hanno fermato 4 ventenni piacentini tra i quali una ragazza, la cui presenza era stata segnalata sul posto poco dopo l'incendio. Dai primi accertamenti sembra che i 4 non siano coinvolti nella vicenda. Del caso si sta occupando la squadra mobile della polizia. Per i rilievi è intervenuto anche il reparto scientifico. Non si esclude che chi ha appiccato l'incendio abbia anche sottratto della merce. Amareggiati i titolari presenti fin dalla notte, hanno preferito non rilasciare commenti. Il locale aveva riaperto soltanto una settimana fa dopo la pausa invernale. La struttura principale non ha subito danni, quindi resterà aperta regolarmente, tempo permettendo.